Qui a Piazza Cavour, dove Liberi TV è presente per fare un servizio sulla manifestazione radicale sulla giustizia giusta, incontriamo Simone Santucci, direttore della Scuola di Liberalismo e cogliamo l'occasione di chiedergli un po' come si articolerà l'attività nel 2017 appunto di questa importante istituzione. Sì, la Scuola di Liberalismo della Fondazione Naudi, quest'anno abbiamo inaugurato un corso totalmente insomma differente abbiamo nella nostra campagna di comunicazione detto tutta un'altra scuola, saranno tre i filoni che la scuola seguirà quella del diritto, meglio della giustizia, saranno presenti come docenti il direttore del dubbio Piero Sansonetti Piero Toni, editorialista del Foglio e già magistrato e Luigi Ferraioli che è un'autentica autorità in tema di garantismo poi affronteremo ovviamente come fondazione Naudi, non potevamo fare altrimenti, tutto il filone dell'economia del liberismo e del liberalismo applicato con Lorenzo Infantino, con Corrado Cone, con Nicola Porro che ci parlerà anche del suo libro La disuguaglianza fa bene, poi parleremo di società, di geopolitica, di etica, di religione insomma c'è un nutrito gruppo di docenti che hanno accettato di far parte di questa nuova avventura della Scuola di Liberalismo della Fondazione Naudi e il 27 febbraio ci sarà la lezione inaugurale. Perfetto, allora il 27 febbraio si parte, diciamo per acquisire al nostro pubblico, per acquisire informazioni più approfondite, come possiamo fare, riferimenti internet eccetera? Bene, abbiamo un sito internet scuoladiliberalismofle.it e soprattutto cosa importante ci sarà una borsa di studio per il miglior tesista da 1000 euro istituita dalla Fondazione Naudi, fondi sono della Fondazione Naudi perché vogliamo, il nostro obiettivo è quello mission statutaria e della Scuola di Liberalismo è quella di diffondere il pensiero liberale e quindi anche sostentarlo, sostenerlo anche con un piccolo contributo economico. Grazie